Negli ultimi decenni ho assistito al progressivo svuotarsi delle chiese nel centro di Roma. Certamente ci saranno ragioni di tipo sociologico e magari in periferia la situazione è diversa, ma certamente mette tristezza se si pensa all'importanza che quel luogo come la chiesa ha non solo per la salvezza della nostra anima, ma anche come posto di aggregazione sociale. Eppure sembra un fenomeno inarrestabile e credo la chiesa si debba interrogare sulla sua responsabilità in quanto succede. Si è offerto negli ultimi decenni una fede che è a metà fra la psicologia e la sociologia, una fede molto umana che è poco interessante per chi ha veramente sete di soprannaturale, una chiesa liquida dunque che cerca di adattarsi alla sua grande nemesi, il mondo moderno. In uno scontro che vede la chiesa sempre sulla difensiva. C'era un tempo in cui era la chiesa a dettare l'agenda culturale, sociale e spirituale. Ora si difende cercando di comportarsi come quel mondo che il suo fondatore avrebbe vinto. Cioè i vincitori si fanno imporre le condizioni dai vinti. Eppure è ovvio che noi oggi ci comportiamo come coloro che sono sconfitti. Ed ecco, le nostre chiese si svuotano, sempre di più e sempre più velocemente. È evidente a tutti che il Covid ha accelerato un fenomeno che però era già ben avviato e che ovviamente non è dovunque uniforme. Quindi non è servito sfigurare la liturgia per avvicinare le persone, come dicono alcuni. Già sento coloro che mi ribatterebbero che se non si fosse riformata la liturgia sarebbe stato peggio. Ma questo certo è difficile da provare. Poi meglio pochi ma ravvivati da una liturgia degna o tanti ma fiaccati da una liturgia indegna. Immagino su questo punto la spiegazione dei miei interlocutori sarebbe senz'altro più ardua. Immagino su questo punto la spiegazione dei miei interlocutori sarebbe da una liturgia indegna. Immagino su questo punto la spiegazione dei miei interlocutori sarebbe da una liturgia indegna.